Giovedì 21 maggio ci troviamo a Firenze per il workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editor in collaborazione con la Fondazione Architetti di Firenze. Si parla di riqualificazione edilizia sia nel pubblico che nel privato ma anche di normative di riferimento, soluzioni progettuali e sistemi ed elementi costruttivi. Tanti temi con tanti esperti e specialisti del settore che andiamo a raccontare con questo servizio. Vediamo. L'Esfeller è un'azienda storica dell'Alto Adige che produce scale retratili e è sempre più attenta per delle soluzioni di accesso sul tetto e anche da pavimento, sull'interato, che noi vendiamo in Italia anche botole da tetto e botole di accesso sull'interato. Qui ho portato proprio la novità che abbiamo studiato negli ultimi mesi per un maggior isolamento termico e anche miglioramento della questione della condensa, per cui abbiamo optato per un nuovo profilo in alluminio, per una nuova costruzione maggiorata di 4 mm che poi ci dà anche il vantaggio di stacco completamente termico. Qui a Firenze sicuramente le botole come novità stanno suscitando molto interesse, abbiamo vari appuntamenti già da seguire con preventivi e anche esecuzioni da sviluppare, per cui siamo proprio contenti di essere qui.